Il confronto tra Mazzetti e Nannicini Inchiesta sui permessi facili ai cinesi, commercialista condannato in primo grado a 6 anni e 9 mesi E' morto Don Franco Groppo per 40 anni, parroco di Luciana e Cantagallo La ciclista poggiosa Vittoria Guazzini, campionessa del mondo Under-23 nella cronometro Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovato e un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato E' ripartita questa mattina su TV Prato, la rassegna stampa ragionata prima di tutto Curata e condotta da Giorgio Bernardini, questa settimana in una versione speciale dedicata alle elezioni politiche di domenica 25 settembre I temi caldi della campagna elettorale sono stati al centro del confronto tra Erika Mazzetti e Tommaso Nannicini Candidati rispettivamente del centro-destra e del centro-sinistra nel collegio uninominale della Camera I contendenti non si sono risparmiati quando gli è stato chiesto di giudicare la campagna del proprio avversario Che avversario è stato Nannicini in questa campagna? Siamo quasi alla fine Guarda, è stato un avversario abbastanza fantasma perché non l'abbiamo mai visto nella città in modo assiduo Nelle cose che contano, nelle iniziative che c'erano, ma soprattutto per dare risposte ai cittadini, alle imprese Non mi sembra che ci sia tutta questa volontà da parte sua, ma soprattutto di un PD che si è arrenato, diciamo, sui suoi battagli interne Sembra più che ci sia, diciamo, una campagna elettorale non tanto per far vincere queste elezioni politiche Ma per poi dopo, il 26, cambiare il segretario nazionale Un segretario nazionale che, ahimè, a Prato ha fatto succedere di tutto Perché abbiamo visto, diciamo, le varie fazioni del PD che sono diverse, soprattutto due Qui litigare per cinque giorni Poi Enrico Letta è arrivato e ha messo uno da Roma per risolvere i problemi Volevo concludere con Fairplay ma ho miseramente fallito Che avversario è stato Nannicini, Mazzetti? Beh, intanto fatemi dire che se sono stato un fantasma all'anorevole Mazzetti Gli ho offerto un caffè, un fantasma, perché ci troviamo sempre tutte le mattine al bar Perché io dal 22 agosto vivo a Prato, dietro il Piazza del Comune, per battere il territorio Un territorio anche baricentrico rispetto al collegio Non sto solo a Prato, sono a Pistoia, sono nel Mugello Facciamo in media 7-8 incontri al giorno Questa campagna elettorale è bellissima, è il bello della politica Incontrare le persone, non solo per ascoltare, ma anche se si ascolta in campagna elettorale Si dice le proprie idee, ci si confronta, ci si scontra anche Per trovare soluzioni per i problemi delle persone e di un territorio Questi sono territori bellissimi, hanno grandi potenzialità E per me non è solo entusiasmante fare minuto dopo minuto, centimetro dopo centimetro Campagna elettorale qua È proprio entusiasmante l'idea di poter rappresentare e dare un futuro a questi territori Permesse di soggiorno facili ai cinesi Il Tribunale di Prato ha condannato a 6 anni e 9 mesi il commercialista veneto Alberto Robbi Il cui studio professionale, aperto in città assieme ad un socio orientale Nel 2016 finì al centro dell'inchiesta per un vasto giro di documenti falsi Atti a trarre in inganno l'ufficio immigrazione della Questura È stato condannato a 6 anni e 9 mesi il commercialista veronese Alberto Robbi Finito nel 2016 al centro dell'inchiesta permessi facili con l'accusa di aver prodotto Tramite uno studio professionale aperto in via Colombo con un socio cinese Un vasto giro di buste paga e documenti falsi Utili a far ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini orientali Il Tribunale di Prato ha combinato una pena inferiore agli 8 anni richiesti dalla procura Ma ha condannato Robbi per le contestazioni più gravi e per il reato associativo Riconoscendogli un ruolo attivo assieme ad altri imputati già condannati in rito abbreviato Nel mettere a disposizione della comunità cinese un pacchetto completo Il cosiddetto tutto compreso di carte tra cui buste paga, testanti rapporti di lavoro Con alcune società fantasma utili a trarre in inganno l'ufficio immigrazione della questura Nel rilascio dei permessi di soggiorno Secondo l'inchiesta, nello studio aperto a Prato che seguiva centinaia di aziende cinesi Si svolgeva un'attività sistematica di falsificazione finalizzata all'ottenimento dei permessi di soggiorno Falsificazione che riguardava anche l'intestazione delle ditte a prestanome E il fittizio innalzamento dei redditi degli imprenditori I legali di Alberto Robbi, gli avvocati Gabriele Terranova e Stefano Zanini Preannunciano ricorso in appello in attesa delle motivazioni della sentenza che saranno depositate entro 90 giorni Pensavamo di aver dimostrato l'estraneità del nostro assistito a quella che era a tutti gli effetti Un'attività secondaria e sotterranea che alcuni membri dello studio svolgevano a sua insaputa Custodendo gelosamente una contabilità separata e inviando i proventi in Cina Afferma l'avvocato Gabriele Terranova È morto Don Franco Groppo, aveva 82 anni e ha sempre svolto il suo ministero nell'alta Valle del Bisenzio Nelle parrocchie di Luicciane e Cantagallo dove è stato parroco per 40 anni Aveva lasciato la guida delle due comunità lo scorso anno e per motivi legati all'età e alle sue condizioni di salute Dal mese di gennaio era andato a vivere nella casa di accoglienza anziani a San Quirico di Vernio dove è deceduto nella notte Originario di Vicenza, Don Franco era arrivato a Prato negli anni 70 per frequentare il seminario La sua era una di quelle che al tempo venivano chiamate vocazioni adulte Negli anni Don Franco è stato anche cappellano della misericordia di Prato Una presenza fissa e preziosa alle cappelle del commiato in via convenevole dove ha celebrato moltissimi funerali Domani alle 16 il Vescovo Giovanni Nerbini presiderà l'eseque nella chiesa di Luicciana E passiamo adesso allo sport, iniziamo dal ciclismo La ciclista poggese Vittoria Guazzini si è laureata campionessa del mondo under 23 nella cronometro I particolari nel servizio di Massimo Biondi Comincia in grande stile la trasferta italiana delle nazionali azzurre di ciclismo Grazie neanche a dirlo proprio a lei Vittoria Guazzini non ci sono più parole per descrivere questa ragazza d'oro in tutto e per tutto Che ha conquistato la maglia iridata nella prova contro il tempo per quanto riguarda la categoria delle under 23 Quarta assoluta fra le più grandi Peccato perché il bronzo era alla portata di Vittoria Guazzini nella gara vinta dall'inossidabile Olandese Helen Van Dijk ma la carta d'identità parla assolutamente a favore della campionessa di Poggio Acaiano Che compirà 22 anni alla fine di dicembre Quindi un quarto posto assoluto sicuramente di grande prestigio perché le tre atlete che sono arrivate davanti a Guazzini Van Dijk, Brown e Reuser sono nettamente più grandi Mentre Vittoria ha sbaragliato la concorrenza nelle pari età Adesso un impegno importante, un altro mondiale Il Team Relais, una nuova disciplina che si è affacciata negli ultimi anni Una mista uomini-donne dove sicuramente l'apporto di Vittoria è stata determinante Poi il mondiale è su strada e quindi la aspettiamo a gloria per una grande festa Perché questa ragazza ci sta regalando tantissime emozioni E speriamo di essere solo all'inizio perché appunto come abbiamo ribadito La carta d'identità parla a suo favore Ed eccoci alla palla grossa Sabato scorso la finalissima nell'arena di Piazza del Mercato Nuovo Anche quest'anno il Palio è andato ai Rossi di Santa Trinita Vediamo Sono i Rossi di Santa Trinita a confermarsi i campioni della palla grossa Per la terza edizione consecutiva Il successo arriva davanti a un pubblico da tutto esaurito Al termine di una finale combattuta Ma con le Aquile sempre in controllo del punteggio Finisce 13 a 6 Pirirossi Ma l'onore delle armi va anche ai gialli Che non si sono mai arresi durante l'ora di gioco Dando l'impressione a tratti di poter riaprire la contesa La finalissima di Piazza del Mercato Nuovo a Prato Vede subito la partenza sprint dei Rossi Che gestiscono i primi tre possessi E li capitalizzano uno dopo l'altro Sugli scudi la prestazione di De Lucia Che firma due poste grazie alla sua velocità E poi a Vestepani di Uomo Assist Per il servizio vincente per Buttitta I Leoni riescono a gestire il primo possesso palla solo all'ottavo E trovano subito la via della posta Per la marcatura che accorcia le distanze La sfida prosegue con i botte risposta Che portano il match sul 7 a 5 per le Aquile Alla mezz'ora con le doppiette di Margheri e Righini Da qui viene fuori l'esperienza di Santa Trinita Che vola sull'11 a 6 al cinquantesimo Trascinata da Margheri La partita di fatto finisce qui C'è tempo per altri due poste delle Aquile Che trionfano 13 a 6 Dei Rossi due calcianti premiati Di Mastro Rocco, miglior giovane Dell'uscita migliore in campo Loro sono stati veramente, veramente forti Poi da dire Una grande squadra Noi venivamo, è vero Da una semifinale durissima Ma il cuore che hanno i miei ragazzi Non ce n'è per nessuno Due ragazzi Distorsione di ginocchio Sono rimasti in campo Sono fatti proprio ammazzati Io più di così che devo dire Sono onorato sempre nella mia grande curva Che non ci abbandonano mai È stata sicuramente una partita diversa Da quella dello scorso anno Più equilibrata Ma la partita dai primi minuti È stata subito messa sui binari A loro congeniali Sono una squadra più completa Lavorano insieme da più tempo Noi siamo al primo anno Abbiamo fatto un ottimo lavoro Siamo soddisfatti Passiamo al calcio con il Prato Reduce dal 2 a 2 di Forlì Sentiamo Massimiliano Masi Non c'è tempo di riprendere fiato Il campionato di Serie D Girone di viaggia spedito Il Prato ha già ripreso ad allenarsi Dopo il pareggio di Forlì Per 2 a 2 Che ha lasciato spazio Alle recriminazioni dei lanieri Raggiunti nel finale di gara Da un super gol di Manara L'analisi nel post partita Del tecnico Giancarlo Favarin Lascia trasparire un po' di rammarico Bella partita Specialmente nel primo tempo Loro hanno fatto molto bene Noi siamo stati un po' sorpresi Dal loro atteggiamento Forse siamo rimasti anche un po' troppo bassi Abbiamo concesso troppo la manovra a loro Sicuramente abbiamo sofferto E siamo andati in svantaggio meritatamente Anche se abbiamo avuto 2-3 episodi Da poter sfruttare meglio Invece insomma loro nel primo tempo Hanno fatto sicuramente meglio di noi Poi nel secondo tempo è cambiata la musica Perché ci siamo alzati un po' tutti Abbiamo portato pressione ai loro giocatori più importanti Abbiamo preso il pallino dal gioco in mano Il pallino è giusto Però insomma la palla del 3-1 l'abbiamo avuta noi E quando succede questo di solito paghi Da fare il 3-1 è preso 2-2 Comunque bella partita E' stato comunque un buon prato Che ha saputo resistere all'avvio Garibaldino del Forlì La squadra bianco-azzurra Accusato del colpo ha cominciato a carburare In avvio di ripresa La rete di Colombi sul calcio di rigore Concesso per questo atterramento In area dell'imprendibile a Diego Mobilio E' stata la logica conseguenza Del volume di gioco svolto dai lanieri Il raddoppio di aprili Il suggello invece di una condotta di gara In crescita costante Soprattutto nella ripresa Per il giovane 2004 Ex Fiorentina si è trattato Le secondo gol stagionale Quando il Prato sembrava pronto Accentare la terza vittoria consecutiva Alla rete del Forlì Con l'euro-goal di Manara Che ha fissato il risultato finale Sul 2-2 Il Prato continua la striscia positiva Ma perde la testa della classifica Dove a punteggio pieno Rimane solo la Gianna Erminio Non c'è tempo di rifiatare Mercoledì sarà di nuovo campionato A lungo Bisenzio Arriva il lanciato Carpi Passiamo adesso alle previsioni del tempo Come sempre a cura del Consorzio Lama Un saluto e bentrovati Come possiamo vedere anche dal satellite Alle mie spalle La situazione è abbastanza stabile L'alta pressione interessa l'Europa Una debole perturbazione sta transitando Sull'Adriatico E porta anche qualche nuvola Sulla nostra regione La vediamo meglio in dettaglio Con la nostra grafica In cui abbiamo indicato Un pomeriggio con qualche nuvola Anche la possibilità di qualche locale precipitazione Temperature pressoché in media Ovvero attorno ai 23-24 gradi E venti orientali In progressivo aumento Nel corso del pomeriggio mare Tendenzialmente poco mosso La giornata di domani Poi vedrà il ristabilirsi Dell'alta pressione Alta pressione che ci accompagnerà Fino alla fine della settimana Con quindi cielo sereno O poco nuvoloso Temperature ancora caratterizzate Da elevata escursione termica Con minime della mattina Attorno ai 10 gradi In leggero aumento rispetto ai giorni scorsi Ma comunque ancora abbastanza fresche E temperature pomeriggiane Fino a 25 gradi Sono valori come detto Per lo più in media Con questo è tutto Vi ringrazio per l'ascolto Augurandovi una buona giornata E con il meteo è tutto Vi ricordiamo alle 17.30 In diretta dalla chiesa di San Bartolomeo A Coiano La recita dei rosari A seguire la celebrazione della Santa Messa L'informazione di TV Prato Torna questa sera alle 20.30 Grazie per averci seguito E arrivederci Grazie per averci seguito